L'Istituto di Piazza Garibaldi, guidato dal consigliere delegato Mario Alberto Pedranzini e dal presidente Francesco Venosti, in una nota precisa che l'utile sconta 17 milioni di costi relativi alle contribuzioni al Fondo di risoluzione e al Fondo interbancario di tutela dei depositi. Le nuove erogazioni a famiglie e imprese sono prossime al miliardo di euro. La raccolta diretta ha raggiunto quota 31.240 milioni. I crediti verso la clientela sommano 25.876 milioni. Il risparmio gestito ammonta a 5.513 milioni. Tutti gli indici patrimoniali sono ampiamente superiori a quelli previsti dalla normativa a conferma della solidità della banca.